Ciao Tosarei, ciao Francesco, ciao maestro, ciao cara, tutto bene? Tutto bene, grazie. Allora, bene, 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 grazie. Senti, io ti ho invitata perché tu sei una mia carissima, nonché meravigliosa cantante, ma sei una mia carissima allieva insegnante, quindi mi piacerebbe che tu ti testimoniassi il tuo percorso non solo come cantante, ma proprio come portatrice del verbo, cioè proprio come lei che cerca di... parte di scherzi, che cerca di diffondere una metodologia che io credo che sia molto innovativa, però lascerei a te la parola. Quindi partiamo, se sei d'accordo, dalla Tosarello cantante, quindi vuoi che ti chiami con il tuo nome d'arte? No, va benissimo. No, va benissimo, va benissimo. Per me sei la Tosaree, poi abbiamo la stessa radice del cognome, Tos... Avevamo detto che Tosarello era un po' più fuori di testa, Tosoni era con un po' più inquadrato, un po' più militare, un po' più disciplinato. Senti, allora ti chiedo, partiamo dalla Tosaree cantante, quindi, quando tu mi hai contattato, che cosa ti aveva snosso? Perché hai detto vado da quello lì? Allora, raccontiamola bene, e con questo... Tu non ti ricordi, ma io mi ricordo benissimo e mi vanto tantissimo con i miei allievi di questa cosa, quindi mi vanterò anche oggi. Adesso mi sono ricordato, vai, 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 guarda, te lo dico io, 2011? Guarda che reperto. C'è l'anno, c'è l'anno? 2011 o 2010? No, prima, io non avevo neanche vent'anni, 2009. Sì, è stato 2010, sì. Sì, fatto, io avevo fatto. 11 anni fa. Sei sicuro? Sì, sì, vai, vai, no, ho capito, ho capito, vai, vai, racconta, perché è bene. Allora, praticamente, cosa successe nel lontano 2009? Sentii parlare di questo bellissimo concorso che si chiamava Mincanto, un concorso organizzato dalla regione Lombardia, se non sbaglio. Provincia di Milano. Ah, scusami, provincia di Milano, ecco bene, parliamo benissimo. Vedi come una test molto affidabile abbiamo, quindi tutto quello che dirà sarà forte. Abbiamo detto che Tosarello, fuori di te, Tosoni, metti i puntini su, dici, fai il tuo lavoro. Giusto, vai. Eh, fai la tua parte. Allora, quindi, dicevo, avevo saputo di questo concorso, ho detto, vabbè, proviamo a fare questo concorso. Erano anni che facevo un po' di concorsi di canto, questo mi sembrava molto interessante, anche perché c'era la possibilità di avere, appunto, accesso a diverse, chiamiamole masterclass, comunque conferenze, su diversi aspetti che riguardano un cantante o un performer. Non solo la mera, mera, tecnica vocale, ma anche tutta la parte più psicologica, insomma, un sacco di cose bellissime. Io mi ricordo che avevo invitato il direttore di Sony Music e avevo invitato anche il direttore di Radio Italia, ti ricordi? Che avevano parlato della fotografia, delle edizioni musicali. Era molto completo, sì, sì, è stato proprio, per me è stato illuminante, ma non solo, cioè, il fatto di arrivare in finale, che comunque è una bella gratificazione, ma proprio il percorso che avevamo fatto per me era stato bellissimo, cioè... E non ci conoscevamo però all'epoca, eh? E non ci conoscevamo per niente, esatto. No, perché tu sei arrivato in finale, non perché ci conoscevamo. No, assolutamente. Ed era tutto gratuito, lo stavi dicendo, tu hai interrotto. È tutto gratuito, esatto, quindi era una cosa che, insomma, non sta né in cielo né in terra, se lo possiamo dirlo. Quindi è stato bellissimo, ho detto, cavolo, è tutto gratuito, un sacco di servizi, facciamolo. E quindi ho conosciuto il maestro Tuzoni, che però era, se non sbaglio, direttore artistico di questo concorso. Quindi non si poteva esporre più di tanto, giustamente, perché comunque è giusto così. Quindi cosa succede? Facciamo il concorso, ci conosciamo, però, insomma, tutto molto giustamente sul formale. Alla fine, dopo la premiazione, dopo che è finito tutto il discorso, tutto quanto, quindi concorso finito, io mi ricordo benissimo che me ne stavo andando e Tuzoni mi ferma e mi dice, Tuzorello, vieni qui. Vabbè, sono andata ad Tuzoni, che mi disse, tu devi capire due cose, non è che devi fare chissà che cosa, devi capire due cose che ti svolteranno completamente. Io all'epoca, tra l'altro, stavo cercando un insegnante, anzi ero propensa a quasi non studiare più, perché non trovavo, cioè, avevo già fatto diversi anni di canto, otto per la precisione, quindi non è che non studiassi da tanto, cioè, era tanto che studiavo, non sapevo dove andare, non sapevo proprio dove andare a finire, perché comunque avevo provato anche diverse scuole barra diversi insegnanti mirati, ma non mi sembrava di capire niente di nuovo, sembra un po' da menosa questo discorso, però non mi arrivava niente di nuovo, insomma. Stai parlando sinceramente, quindi va bene. Esatto, cioè, mi sembrava, boh, è impossibile che io ad otto anni abbia capito tutto, boh, cioè sì, mi sembra di cantare bene, però secondo me non ho capito tutto. E quindi, appunto, Tuzoni mi si palesa così. Quali sono le due cose che io ti dissi? Eh, no, poi mi hai detto più di due, però quello che mi hai detto quando mi hai detto di fare questa lezione, io ti ho detto, ok, dimmi un po' quanto ti devo, e tu mi hai detto, no, 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 sono io che voglio fare questa lezione con te, perché tu devi capire questa cosa e poi te ne vai, perché tanto non ho spazio per nuovi allievi. Va bene. Risultato? Così ti dissi? Ma hai detto così? No, no, ma era vero. Guarda che io, no, io guarda che io per anni, tu racconterei la tua, ma io per anni veramente non avevo spazio, la gente pensava che io me la tirassi, ma non avevo veramente spazio. No, no, beh, ma eri veramente pieno, io me lo ricordo, però poi non hai potuto fare, è vero, perché io, ah, scusa. No, è che tu, cioè, se io sono venuto da te, è perché tu avevi una voce veramente della Madonna, cantavi già veramente molto bene, però sentivo che con quello che potevo insegnarti avresti fatto ancora meglio, e per quello che ho avuto la spinta, lo stimolo di venirti a dire. E quindi poi, dimmi, dimmi. E quindi poi mi sono andata a lezione, questa lezione appunto offerta gentilmente dal maestro, e sono uscita da questa lezione, non so se te lo ricordi, perché io non credo di essermi fatta vedere, perché sono poco d'orgoglio, io poco. Sono scoppiata a piangere come una fontana. Perché? Io non lo sapevo questa cosa. Eh, non lo sapevi, ma lo sai, in diretta, tac. Perché sono scoppiata a piangere? Perché per due motivi. Uno, avevo la sensazione di avere buttato otto anni. Cioè ho detto, io non ho capito niente. Bene. Cosa ho fatto io per otto anni? Non lo so. Perché tu mi avevi anche detto, guarda che tutto quello che tu sai fare, lo sai fare perché canti sebre, hai talento, in qualche modo lo sai fare. Ma non stai facendo niente a livello tecnico. Grazie. Quindi io ero un pochino presa male da questa cosa qua. Dall'altra parte era un pianto di gioia, perché io in uno, ora neanche, 45 minuti, con appunto questa lezione, avevo capito che potevo fare un sacco di cose. Cioè io in 45 minuti avevo capito che di sicuro il re non era la mia ultima nota. Avevo capito un sacco di cose. Io ero convinta di avere quell'estensione lì, di non potermi spostare da lì, che per arrivare lì dovevo spingere o aprire, insomma fare un sacco di cose che mi erano state insegnate, ma che evidentemente non erano proprio corrette. Perché comunque poi effettivamente dopo questa lezione che è difficile che in 45 minuti tu capisci, ok, non ho capito niente, ma ho capito anche tutto quello che posso fare. È stata un'illuminazione per me. Che bello. Infatti mi ricordo che ti ho detto, maestro, resto col cavolo che tu non hai spazio per me. Vedi di trovarlo. No, questo me lo dici ogni anno da... Non provare a sparire, non provare a dissolverti. Ti vengo a trovare, ti vengo a prendere. Sì, sì, me lo dici ogni anno. Sì, sì, un po' minaccioso, ma è così. Poi dirlo come lo dici... Vengo a... Non posso dirlo, che poi ci sono i miei amici. E poi si arrabbiano. Beh, comunque... No, io faccio sempre questo... Per chi non mi conoscesse, faccio sempre questo personaggio che mi piace molto, ma in realtà non c'è niente di... Ma certo, ma c'è niente di strano. Era solo per irrorizzare un attimo. Allora, quindi niente, ho avuto queste mega rivelazioni e ho iniziato a fare questo percorso con il maestro Tosoni. Nel frattempo io comunque già insegnavo canto perché mi era stato detto wow, sì, secondo me puoi insegnare. Mi avevano chiamato delle scuole e io ovviamente a 19 anni vado, mi butto e vedo cosa succede. Ok, rimaniamo ancora un attimo sulla cantante e poi passiamo all'insegnante. Il lavoro che abbiamo fatto insieme, il metodo Voce Essenza, per come l'abbiamo scaglionato in tutte le sue piccole dinamiche. Allora, il metodo Voce Essenza, se devo dire la mia, sulla mia esperienza, è un metodo che va fortemente, secondo me, contro tutto quello che mi è stato detto prima, ma che ha i risultati veloci e sani e che ti regala una capacità di cantare senza fare fatica, senza neanche renderti conto che stai cantando, cioè godendoti il momento, senza pensare oddio adesso devo andare a fare quella nota, non ce la farò mai, oddio stecco. Cioè ovviamente non subito, è una cosa che con gli esercizi, con tanta pazienza anche del maestro. Vocalizzo dopo vocalizzo. Vocalizzo dopo vocalizzo. Con la pratica quotidiana, vero? Con la pratica quotidiana. Con la pratica quotidiana. Mi chiamano? Non ho sentito nulla. Con la pratica quotidiana. Allora, devo dire che io non sono una brava allieva, perché io non studio tutti i giorni come professo che si deve fare. Però... L'insegnante, poi ci arriviamo all'insegnante. Come cantante sei un po' discola. Però dall'altra parte, ho tanti momenti in cui posso sperimentare sul vivo, dal vivo, non so come dire, cioè nel senso, magari non sto via a studiarmela sola nella cameretta così, però applico tantissimo, invece magari live, piuttosto che in studio, mi scaldo, faccio i miei esercizi che ho imparato appunto, grazie a questo metodo e grazie al maestro. e quindi sicuramente gli esercizi che facevo prima per scaldarmi non mi davano la sensazione che ho adesso quando mi scaldo. E comunque mi scaldo pochissimo, non mi serve nemmeno chissà quanto tempo. Poi non so se è una cosa perché ormai sono a un certo livello o perché è così. Però la sensazione è quella di avere capito quale è l'esercizio di cui ho bisogno in un preciso momento, nel senso che non è neanche vero che ho sempre bisogno dello stesso esercizio, ok? Magari ci sono dei momenti in cui... Guarda, questo credo che sia il grande fattore differenziante del lavoro che tu cercavi di sottolineare prima e che hai fatto molto bene. Mi permetto di aggiungere qualcosa. Non è tanto l'esercizio che fai, ma è il come lo fai. Quindi magari oggi me ne serve uno, domani me ne serve un altro, ma è il mio sentire che determina in quel momento che cosa mi serve. È quella. Assolutamente. Cioè come se noi spostassimo il punto di osservazione dall'esterno all'interno per creare poi all'esterno l'immagine che vorremmo creare. Quindi la voce, il suono, l'acuto, le cose, eccetera. Bene, che bello. Quindi la cantante direi che è estremamente soddisfatta. Hai visto i numeri che mi parlano di te e che dice la tosare, la tosare, io vorrei cantare come quella. Voglio cantare come quella. Veramente? Sto mai. Che bello. E quindi, cioè, insomma, grazie, grazie perché sei una validissima testimonial dell'efficacia del lavoro fatto insieme. Quindi, grazie davvero. ma poi la tua luce, l'energia che porti sul palco, la tua energia, cioè, perché a cantà sobravi tutti, ma il come canti è quello che si porta a casa la gente che fa davvero la differenza. E quindi, secondo me, tu sei veramente una grandissima, una validissima testimonial, virgola. L'insegnante. L'insegnante. Allora, l'insegnante, l'insegnante che appunto già insegnava a 19 anni convinta di insegnare delle cose che mi erano state insegnate appunto, ma che non sapevo effettivamente, no? Cioè, se fossero così giuste, sicuramente a livello, vabbè, scientifico, mi ero documentata e quant'altro, però, quando poi effettivamente ho iniziato a fare lezione con Andrea, con te quindi, ho capito che tutto quello che io insegnavo era all'opposto di quello che tu stavi insegnando a me. detto proprio ciccia ciccia. Quindi, che cosa ho fatto? Immagino che è stato un bel momento per l'insegnante. Sì, sì, per me, guarda, soprattutto passare da un giorno e dire, guarda, devi fare così, settimana dopo no, devi fare cos'ha? Quello che te l'ho dovuto adesso, ma no, la città. Con l'allievo che ti diceva, ma come? Scusa, l'altra settimana scorsa. no, ero ubriaca. Non potete neanche dire così perché è un po' andare ubriaca a scuola, no. Quindi, no, ho dovuto proprio, piano piano appunto, ho integrato, ho integrato quello che mi hai insegnato, l'ho integrato cercando sempre di levare quello che insegnavo prima e fare solo quello che mi hai insegnato tu, ma con proprio una fame di vedere il risultato, perché io banalmente pensavo, vabbè, Andrea è un bravo insegnante, io bene o male comunque non parto che faccio proprio schifo, quindi grazie al cavolo che funziona, no? Cioè, lui è bravo, io sono brava, due più due fa quattro, questo così. Invece, la mia curiosità era vedere se questa cosa potesse funzionare anche su magari qualcuno che si ha voglia di cantare ma non deve per forza diventare un cantante o comunque anche, come dire, una persona senza grandi pretese o senza grandi punti di partenza, no? Ho un grande talento, no? E la cosa che mi lasciava stupitissima, che proprio mai vengono i brividi quando ci penso, è che io appunto imparavo l'esercizio da tu zoni, andavo a scuola, lo facevo fare subito all'allievo e l'allievo svoltà, cioè la settimana dopo era un'altra persona, io avevo dicendo, dai, mi stai facendo venire tutti i brividi alla schiena, ma non me ne hai detto queste cose, ma allora aspetta, ripetilo, tu hai detto, ma tu ti fumi gli alberi però, io te le ho detto queste cose, Sì, ho capito, ma sono passati troppi anni, dai, la nostra collaborazione, perché adesso parleremo anche un po' della nostra collaborazione, ma, Certo, cioè, da che ci chiamo conosciuti, l'hai testimoniato tu dall'inizio, cioè, sono passati più di dieci anni, quindi, sì, è vero, sto invecchiando, sì, sto invecchiando, perdi i colpi, perdi la memoria, è che posso ricordarmi tutto, quindi, ah, che bello, quindi tu, tararara, tararara, e l'allievo svoltava, che figo, e l'allievo svoltava, e la cosa che, cioè, nel senso, a scuola, giustamente, devi avere, hai quell'ora lì, o il tre quarti d'ora, non puoi sforare più di tanto, perché poi hai subito qualcuno dopo, privatamente, se prima mi capitava di dire, cioè, bello insegnare, però, oddio, sono stanco, privatamente mi capita di, durante una lezione, dire all'allievo dopo, viene mezz'ora dopo, che io devo finire un concetto, io voglio che l'allievo se ne vada, che ha capito, e quando ha capito? Quando fa questa faccia, però io? Bellissimo. L'ho fatto io sto suono? Eh no, ho fatto io, l'hai fatto tu, cioè, io sto suonato piano, guarda che stai cantando tu, cioè, gli occhi così giganti, e lì capisci che hanno capito, e io, all'inizio, brividone, e dico, ok, ma te ne puoi andare, ciao, ok, ora hai capito, vai, studia, vai per la tua strada, ed è una cosa bellissima, perché lo vedi proprio, cioè, noi, penso, gli insegnanti lo sentono, quando è già giusto, dici, cavoli, guarda che ci sei, però, finché non ha capito, quello che hai davanti, non hai finito, secondo me, io almeno la vedo così, assolutamente, quindi, mi è capitato anche a me, no, di fare lezioni con te, con me, allieva che era 45 minuti, poi diventava un'ora e mezza, e funziona che, se non hai capito, te ne vai, cioè, almeno, poi è ovvio, rispettando anche, giustamente, gli orari di quelli dopo, tutto quanto, però, non è la lezione fino a se stessa, è proprio una, una volontà di passarti dei concetti, che a me hanno fatto molto bene, non solo a livello vocale, ma anche a livello psicologico, anche a livello, io, vabbè, ma tu lo sai, maestro, ma chi ci ascolta, forse no, o perlomeno non tutti, ho passato un po' degli anni, dove tipo all'inizio del mese pesavo 59, alla fine del mese pesavo 49 kg, Burrascosi, ricordo, c'era, un po' Burrascosi, adatto, mi ricordo, mi ricordo questa faridere, adesso ridiamo, lì un po' meno, però mi ricordo, quando eri ancora, mi sembra, a Lambrate, sì, a Montenevoso, che è quello, è stato il periodo in cui, io non stavo tanto bene, mi ricordo, che una volta, sono entrata a lezione, noi facevamo lezione, una volta ogni due settimane, entro all'inizio del mese, e mi dici, mi guardi, mi hai guardato, cioè io non ho detto niente, non ho detto neanche ciao, sono solo entrata, mamma che brutta energia, guarda, non ti chiedo neanche come stai, perché non lo voglio sapere, grazie maestro, I love you too, vabbè, vabbè, facciamo il primo esercizio, dai, fra fammi la M, e io, così, ma tutto bene, tutto a posto, dopo due settimane, ritorno, ma tipo, cioè, la metà di quella che l'hai lasciata a casa, perché avevo perso un po' di chile, appunto, per questa cosa qua, e diciamo che, sicuramente, vabbè, senza andare nello specifico, comunque, appunto, non stavo passando un buon periodo, e comunque, questa cosa di continuare a venire a fare lezioni, a fare questo lavoro, che, ripeto, non è solamente un lavoro tecnico, è, in gran parte, sì, lavoro tecnico, ma è, anche un lavoro che fa, che fa l'anima, non c'è un modo diverso di dirlo, cioè, è un lavoro anche psicologico, ma senza metterti di collettino, parlami di te, no, cioè, non è quello, è proprio una cosa che il maestro Andrea Tosoni, ti sente, tu entri, dici, oddio, ti chiedo manco come stai, perché, e quindi, di conseguenza, lavora. Non è che ci volesse una grande competenza, una grande sensibilità, a vedere come stavi molto bene, e dici, ok, però, quello è vero, compromesso, poveretta, esatto, è un momento molto difficile, ma, sì, ma è, è il dono, è il privilegio, anche di chi come noi, lavora con la voce, e con il suono, cioè, una cosa che dicevo, anche ad un allievo, che ho visto prima, per una sessione, era, che lui mi ha chiesto, ma come fai? E io gli ho detto, non lo so come faccio, so che il mio punto di osservazione, che non sono gli occhi, ma il sentire, va dentro, non si ferma alla superficie della voce, quindi va dentro e cerca di capire, cerca di sentire, di percepire, che cosa sta succedendo dentro, e perché sta succedendo, quello che sta succedendo dentro, e quindi, quello che io sto provando a passare, anche a voi, insegnanti, questo è voce essenza, cioè andare dentro la voce, andare a sentire che cosa pensa, ma no, che ce ne frega a noi, di quello che pensa la persona, ma che cosa sta pensando, in relazione al suo suono, e come aiutarlo, con quale vocalizzo, che magari, la settimana prima, era servito tantissimo, magari stavolta non serve più, ma addirittura, al giorno prima, al giorno prima, ti ha servito tantissimo, oggi non ti serve più, oggi magari ti serve una roba, diametralmente opposta, perché? Perché è in quel sentire, che la persona stessa, se acquisisce un po' di consapevolezza, e qui è il cantante, capisce in quel momento lì, qual è lo strumento più adeguato, in quel momento da usare, proprio perché, noi ci possiamo connettere, con la parte dentro di noi, che è eternamente ferma, e da lì osservare, che è tutto fuori, meravigliosamente cambia, tu hai parlato di anni, ma non credevo, che arrivassi a tanto, perché tu sei tra le mie allieve, e anche più yeah, quindi mi stai sorprendendo, volevo chiederti, in conclusione, perché non volevo, sai che noi parleremo tutto il giorno, ma non volevo, tediare chi ci sta ascoltando, ma non tedi nessuno, sono tutti curiosi qua, quanto è bello, perché per me lo è tantissimo, lavorare in tandem, lavorare in social, cioè una delle cose, che a me veramente amareggiava, è vedere quanto gli insegnanti, fossero attaccati, ai loro allievi, e invece quanto è bello, gestire tra virgolette, lo stesso allievo a quattro mani, a quattro occhi, a quattro orecchie, tra di noi, cioè noi spesso ci passiamo gli allievi, fra cose che pensi di quella persona lì, e tu magari mi hai mandato, il momento prima, il vocale che diceva esattamente, la stessa persona, di quella tal persona, che stiamo seguendo insieme, quindi, quanto è bello, cioè per me, tantissimo, ed è bellissimo vedere come, io dico quella persona, guarda, lavoro su questa cosa qui, e glielo avevi detto anche tu, e quindi guarda, cosa ha detto la fra, la fra mi ha detto questo, perfetto, lavoriamo, la stessa tic, la stessa tic, arriva da te, e diventa un tac, ad un livello ancora superiore, quindi, è vero, che bello, è vero, è bellissimo, anche perché poi, sai, noi possiamo stare qua, a dirci quanto è bello, quanto è bello, però, diciamo, e quanto è costruttivo per l'allievo, però l'allievo, a me, proprio quando arriva il feedback dell'allievo, perché, cosa succede, poi io mando l'allievo dal Tosoni, dico, se ti vai l'attima fatta la raddrizzata, per favore, poi torni e ne riparliamo, e mi torna, e poi quando succede questa cosa, mi arrivano in concomitanza, due vocali lunghissimi, uno è dell'allievo, e l'altro del Tosoni, questi due vocali, l'allievo, oddio, ma spaccato, però è sempre una figata, e il Tosoni, che mi dice tutta la parte tecnica, guarda, ho lavorato, o comunque tra l'altro sono bravissima, perché mi hai sempre detto, hai lavorato molto bene, bravissima, continua così, bravo a me, bravo a me, ogni tanto ve lo dico. Ma guarda, che se tu non fossi una validissima collaboratrice, una validissima insegnante, oltre che cantante, non ti avrei neanche intervistata su questa cosa, quindi l'intervista conferma, che è bello lavorare con te, cioè, la tua competenza è fuori discussione. Eh, ma io ogni tanto la sai, che io sono fatta così, ogni tanto, diciamoci, diciamoci. Esatto, quindi, devo dire che... Il doppio vocale. No, no, ma finissimi il discorso. Sì, a me arriva il doppio vocale, che per me è molto, cioè, è una cartina di tornasole, si dice così, credo, perché appunto, da una parte ho appunto l'allievo che dice, cavoli, hai visto, cioè, che bello, abbiamo lavorato tutto il mese, per esempio, su questa cosa qui, poi sono andata dal Tosoni, e effettivamente mi ha sentito migliorata, poi abbiamo fatto anche questo qua, quindi dobbiamo lavorare anche su questa cosa qua, però, quello che ci aveva detto di fa, l'abbiamo fatto bene, quindi, e soprattutto, lui, l'allievo in primis, sente il beneficio di questa collaborazione, e poi mi arriva appunto il vocale del Tosoni, che come dicevo prima, mi fa sempre tanti complimenti, perché mi dice che stiamo lavorando bene, appunto, che sta andando tutto bene, e poi mi dà appunto il consiglio successivo, adesso provo a lavorare con questa cosa qua, continua così con questa cosa qui, provo ad aggiungere questo, insomma, ed è per me molto, intanto stimolante, molto stimolante, e poi è comunque una continua formazione, perché io, con tutto quello che ho appunto imparato, prima, dopo, durante, appunto, gli insegnamenti di voce e senza, butto tutto sull'allievo, molto volentieri, perché vedo proprio che, bam, cioè, capiscono, è una cosa che, per me è importante, perché io mi ricordo, prima di andare appunto, a studiare voce e senza, che uscivo dall'allievo e dicevo, beh sì, ho cantato bene, che bello, ho cantato l'isse, però, come? Non lo so, come ho fatto, non lo so, cioè, non ho un'idea, e poi, per esempio, questa cosa qua, che io mi ricordo, me la ricorderò sempre, avevo fatto un concorso di canto, dove appunto, avevo cantato l'isse di Beyonce, che non è proprio facilissima, per me, perlomeno, e avevo paura di vincere, perché se vinci, devi ricantare, capito? Cioè, il vincitore ricantava la canzone, no? Fatto stacco, ho vinto, ho vinto quell'anno, e ho dovuto ricantare, io avevo paura di ricantare, perché ho detto, cazzo, ma mi è andata bene una volta, non lo so se mi va bene un'altra volta, perché comunque non ero consapevole di, di come l'avevo fatto, cioè, io l'avevo fatto, come mi veniva, come avevo studiato, l'avevo cantata cento miliardi di volte, avevo deciso che vibravo lì, che li spingevo, che li aprivo, che, però non è che ero sicura, che quella cosa lì fosse giusta, capito? quindi quando ho dovuto ricantare, avevo paura di non, di steccare banalmente, perché non è che ero tranquilla, nel dire, vabbè, sì, ma tanto il suono è lì, appoggi, fai, no? Posso approfittarne, posso approfittarne, tanto ormai, cioè, quanto sarà? 20 minuti, ma siamo anche sull'ordine della mezz'ora, ma vabbè, chi vorrà, vedrà fino alla fine, questo concetto della sicurezza, è importantissimo, perché per me, è una colonna, centrale, del nostro lavoro, cioè, noi possiamo impostare la voce, come dicevi tu, faccio questo, faccio quell'altro, la metto qui, la metto lì, apro qui, chiudo qua, nell'illusione di sentirmi sicura, quando in realtà, non ho una sensazione di sicurezza, viceversa, mi metto in uno stato, senza pensare di fare 1500 cose, sto in quello stato, sto in quel binario, e tutto esce, nel modo migliore, da solo, capito? perché acquisisco giorno dopo giorno, di chi fa un lavoro quotidiano, acquisisco giorno, un piccolo disturbo glottico, quindi, di chi fa un lavoro quotidiano, acquisisco una sicurezza, che dico, porca miseria, ma certo, ma la ricanto, come un cantante, l'altro giorno, che testimoniava, finisco un concerto, e vorrei farne subito un altro, un concerto, mentre, prima di fare il lavoro insieme, lui finì al concerto, stremato. Io un'altra cosa, che ti può testimoniare benissimo, questa cosa, la puoi chiedere al signore Enrico Meloni, che è stato con me tantissimo tempo, all'Atlantis, che era un hotel, dove andavamo in Svizzera a lavorare, e lì dovevamo cantare, quattro ore al giorno, due ore, pausa di un'ora, due ore, per tre giorni di fila, se io non avessi imparato, con voce e senza, a giustrarmi un po', a sentire come dovevo cantare, dopo il primo set, avrei detto col cavolo, cioè non ce la faccio, non riesco, perché comunque ti stanchi, questo non vuol dire, che alla fine dei tre giorni, io fossi fresca come una rosa, ma a livello vocale sì, cioè stanca sì, è normale, comunque stai cantando, al lavoro anche fisico, fisicamente, cinque di impegno, perché anche nell'ora, che tu hai di pausa, non è che stai ferma, zitta nel religioso silenzio, in vipassani, in meditazione, parli l'aperitivo, bravo, mettici anche che in quell'ora, dovevi anche mangiare, e chiudiamo parentesi, è un casino, oh io non fumo, sai che non fumo, mi spiace, no, parla di generale, cinque ore così, per tre giorni di fila, in uno stato straniero, con il viaggio, l'autostrada, la macchina, i vocali, pronto, si sta arrivando, cioè, la voce, si, entra in surmenage, e quindi mia cara, tu puoi anche lavorare bene, ma dopo tre giorni, dici, a o, e dammela un attimo, stanca, stanca, sì, assolutamente, fisicamente, però la voce, poteva cantare altre quattro ore, questo per me, era un, cioè, una rivelazione, avrebbe detto, cavoli, se mai, poi non è successo, non so se succederà, però, se mai uno, cioè, per esempio, io penso alla mia preferita, Beyoncé, cavoli, quella, quando fa il tour, quella deve fare 150 miliardi di date, una dopo l'altra, e canta di brutto, come fai, no, a parte a Beyoncé, a Beyoncé, c'è, do un piccolo contributo, visto che ho avuto la fortuna di lavorare con qualcuno di grosso, non a livello di Beyoncé, però quasi, senza sminuire Beyoncé, ma per dare un po' di valore a coloro con cui ho lavorato, sono delle macchine da guerra, nel senso che, a differenza di noi umani, che tra una data e l'altra, nel giorno che dovrebbe essere di recupero, nel day off, facciamo di più, loro stanno in silenzio, stanno isolati, si fanno i cavoli loro, si riposano, si rilassano, spa, relax, massaggi, cose, in silenzio, tendenzialmente in riposo, quindi questa potrebbe essere una risposta, noi non abbiamo quel tipo di accomodamento, no, non ce l'abbiamo, però ci sono anche tanti grandi, che voglio dire, banalmente, mi viene in mente, Rihanna, cioè, che non è chi ha meno soldi di Beyoncé, o meno possibilità di fare la spa, però, non è la stessa cosa, cioè, lei sul palco, tecnicamente, secondo me, non è nemmeno la luce di Beyoncé, capisci, ma non perché, cioè, non è una questione di gusti musicali, è una questione proprio di, le vedi come cantano, mi viene in mente Alicia Keys, Alicia Keys, io sto male, un po' se crea tempo, no, ti giuro, sto male anche solo sentirne il nome, per le ultime cose che sta facendo da qualche anno, mamma mia, lei era una delle mie preferite, quando ero più piccola, no, poi sono andata al concerto e ho detto, che cosa stai facendo, perché, mi sto facendo male, perché, mi sto facendo male, perché non sono consapevole, perché se ne fossi consapevole, troverei un rimedio, certo, andrei a cercarlo, quantomeno, canto senza fatica, ma un tosoni, voglio dire, ma lascia, lascia stare il tosoni, dico, esisterà un modo, prendi la casetta di fianco, beh, Alicia Keys, sarà anche una bella situazione, caruccia, sono al piano, mi trasferisco, ma anche se tu fossi, voglio dire, nel suo capallo degli attrezzi, secondo me, saresti meglio di tutti noi messi insieme, guarda, sarebbe già un miglioramento, rispetto agli allievi, che mi vorrebbero sul comodino, ma tu non puoi venire, ti metto lì sul comodino, e mi fai fare, meglio che parlo degli attrezzi di Alicia Keys, certo, senti, mia cara, veramente, parlerai tu del poveriggio, ma che bello, in conclusione, lascio a te, in conclusione, una parola, quello che vuoi, una parola, una sola, è difficile, maestro, sai che non ce l'ho, il dono della sintesi, anche te ti porti i testi, mi dici, tu non hai il dono della sintesi, mi dici una parola, allora, una parola, grazie, perché, grazie, sicuramente, perché sicuramente, mi hai insegnato tantissimo, ripeto, cento volte, sottolineo, non solo a livello vocale, mi hai insegnato tantissime cose, quando io parlo di Tosoni, dico, il maestro Tosoni, è per me, è un maestro di vita, poi, livello vocale, mi ha svoltato, è tutto effetto, però, non è tutto affetto, lo so che posso, guarda, adesso chiamo tutti i vari allievi, che ti hanno visto anche solo mezza volta, non è utile che fai, si, 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 fai il modesto, poi dici a me, che cavolo, no, però è vero, ascoltami, io ti ringrazio, perché io ci metto il cuore, io so che ci metto il cuore, oltre che una competenza didattica, ventennale, e quasi altrettanto, vorrei dire, di cantante, quindi, ci metto veramente tutto, come dicevi tu, tu prima hai detto una cosa, che io non vorrei dilungarmi, ma è centrale nel percorso Voce Essenza, tu hai detto che dai tutto, e dai tutto all'allievo, purché capisca, questo è, cioè, io mi metto in gioco tutto, e tutti i giorni, io tosare, io tos, mi metto in gioco, totalmente, tutto il giorno, anche in questa intervista, noi stiamo dando tutto, poi, se qualcuno vuole capire, capirà, se qualcuno non vuole capire, non capirà, se qualcuno criticherà, ma criticate, ma fate quello che volete, ma criticate, ma che ci prega, questa cosa, ti rende libera, libera, non solo di sentire, ma di ascoltare, e più tu ci sei nell'ascolto, più cose arrivano, quindi, ecco perché io tendo a sminuire, il mio ruolo, perché voglio portare valore, al grande lavoro che viene fatto, più che nella funzione del maestro, il maestro è semplicemente, non vorrei sminuire il tuo ruolo, come il mio, ma noi siamo semplicemente, dei tramiti, siamo delle grondaglie, direbbe qualcuno, siamo dei canali, attraverso, cui arriva un qualcosa, e quel qualcosa, arriva se noi ci mettiamo, prima di tutto, in una condizione umile, di ascolto, quindi, quando io ti ho visto arrivare, quel giorno così, cioè, io ero già pronto ad ascoltare, ero già pronto così, sei arrivata con tutto, quel macigno, ho detto, aspetta, non ti chiedo come stai, non ti chiedo come stai, ma ti avevo già sentita, capito? Ma poi dalla porta già, ma l'avevi sentita, l'avevi detto, ma lo sentivo già, neanche se è entrata, l'ho sentita molto bene. Certe cose, le senti ancora prima, di venirci a contatto fisicamente, ecco, questo, credo che sia il grande valore, e se tu dici grazie, io dico grazie a te, perché, tu da insegnante, da cantante, vivrai quanto me, questa gratitudine, corrisposta, e reciproca, cioè il pubblico ti dice grazie, ma sei tu che dici grazie al pubblico, l'allievo ti dice grazie, ma sei tu che dici grazie all'allievo, perché se l'allievo, con tutte le sue difficoltà, non fosse lì, ad aver, tra virgolette, bisogno di voce senza, tu non vedresti la realizzazione, di voce senza, della bellezza, di quello che esce, anche dall'allievo, oltre che dal metodo, quindi, grazie, è vero, a te, del tuo ruolo di cantante, del tuo ruolo di insegnante, di tutto il bello che fai, per il tuo pubblico, per i tuoi allievi, e quello che fai per me, come allieva mia, che ancora, mi è grata, grazie mille, grazie a te, Tosare, Tos, grazie, Tos, ciao Tosare, ciao ciao, ciao,